Quando sono arrivato il primo momento a Pescara del Tronto era buio ancora, ho visto solo polvere, tanta polvere. Paesi fraterni, da Amatrice a Pescara del Tronto che un tempo facevano parte di una sola diocese, oggi vescovo anche di Amatrice e di Accumuli, ma nel mezzo di un uomo aveva anche la risurrezione dei morti. Paolo sapeva bene. Dei volontari mostra il volto bello della nostra Italia. La regalo a lei, questa è una madonnina che sta nella provincia di Rieti, no sta nella provincia di Rieti ma era l'Aquila, era prima di Androdoro. La consegno a lei in rappresentanza di tutti quanti politici che fanno parte, Mancini, Giuseppe, la verrò a trovare. Grazie. 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 Grazie.